Ciao amici di Panet Channel Sono Carolina Petrelli, è una giocatrice di padel da ormai un paio di anni, ho iniziato con il tennis da quando ero piccolina e due anni fa quando hanno montato i campi all'interno del mio circolo David Lloyd Malaspina ho cominciato a tirare qualche palla. Non è stato amore a prima vista, ho dovuto abituarmi un pochino, adesso non posso farne a meno. Mi alleno da Gustavo Spector e con Simone Cremona qui a Malaspina, dove faccio anche l'istruttrice, quindi faccio lezioni di padel, mixo, tennis e padel. Diciamo che il tennis non lo abbandono mai. L'anno scorso ho cominciato a prendere un po' più seriamente l'attività, ho fatto un anno intero insieme a Francesca Campigotto dove abbiamo raggiunto ottimi risultati, abbiamo vinto una tappa slam, ci siamo qualificate al master finale. Da quest'anno parteciperò anche alla Serie A insieme alla GFG Sport David Lloyd Malaspina e diciamo che sarà una grande esperienza, insomma, confrontarsi con giocatrici di fama mondiale. Su Milano la crescita è stata pazzesca, c'è stato un boom incredibile, sono nati tantissimi club, hanno montato tantissimi campi e il movimento femminile si fa sentire. Al momento l'attività didattica è tendenzialmente centrata sugli adulti, ancora i bambini sono incuriositi ma non si buttano ancora all'interno del campo, al nord. Invece per quanto riguarda gli adulti, sia ex tennis che persone invece che non hanno mai preso una racchetta in mano, sono diciamo attratti da questa gabbia. Si divertono, si divertono perché cominciano subito dopo qualche lezione a capire come funziona, palleggiano, scambiano, si prendono in giro.